Sono quattro le persone denunciate per guida in stato d'ebrezza nel corso dei controlli alla circolazione stradale operati dai carabinieri della compagnia di Eurisina per prevenire gli incidenti a volte anche mortali molto spesso causati dall'abuso di alcol prima di mettersi al volante. Con l'impiego dei militari delle stazioni di Villeopicine Barcola coadiuvati dall'alliquota radiomobile, nello scorso fine settimana sono stati effettuati numerosi controlli stradali per accertare l'eventuale abuso di alcolici. Cinque le patenti ritirate ad altrettanti automobilisti trovati alla guida con tasso alcolemico superiore a quello consentito. Per quattro persone è scattata la denuncia penale all'autorità giudiziaria in quanto il tasso alcolemico è risultato oltre la soglia di 0,8 grammi per litro, mentre per un automobilista si è trattato di una sanzione amministrativa in quanto il risultato è stato tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Si tratta di persone residenti a Trieste provincia dell'età di 25, 26, 28, 35 e 57 anni. Per tutti e cinque si è proceduto al ritiro della patente di guida, mentre le auto su cui viaggiavano sono state affidate a terze persone idonee alla guida.